Che cosa è successo nei primi turni dell'Ostelian Open in 5 minuti? Possiamo farlo Dall'alto verso il basso del tabellone Cominciamo Novak Djokovic si sarebbe aspettato e avrebbe sperato di chiudere la pratica del primo turno in meno di 2 ore e mezza Per non mancare la prenotazione al ristorante nel post partita Purtroppo però Dino Prismic non aveva voglia di andare al ristorante e non aveva la stessa idea del serbo Che è stato costretto decisamente agli straordinari sulla road laver arena per chiudere una partita complicatissima dopo 4 ore di gioco Primo set tutto regolare 6-2 per il 24 volte campione slam Poi dal secondo in poi ragazzi è stata una guerra sostanzialmente E Prismic ragazzi non scorderà mai la prestazione di domenica notte E speriamo che la standing ovation del campo centrale del Melbourne Park possa dargli una bella carica per il futuro Perché pare essere veramente un gran bel giocatore Intanto però non la cede al secondo turno e se la vedrà con Alexei Popperin E' andata decisamente meno bene agli altri veterani campioni slam quali Stan Bavrinka e Andy Murray Entrambi usciti sconfitti rispettivamente da Adrian Mannarino e Thomas Martinez-Ceverry E ora perdere al quinto da questo Mannarino dal Mannarino di questo momento storico qua ci può anche stare Ciò che è grave però ragazzi è perdere 3-7-0 su cemento facendo 8 game a malapena Perché per certi game veramente l'ha dovuto tirare con tre Ceverry e sottolineo su cemento C'è un problema Andy e sia io che te pare come vedete da queste sue dichiarazioni Pensiamo possa essere il fisico che sembra non essere più quello adatto alle maratone Bene per il risultato finale anche Ben Shelton che come avevamo anticipato nella tier list di qualche giorno fa Ha sì battuto Roberto Bautista Gut ma non giocando bene anzi Due ore e tre quarti di partita giocate con una percentuale al servizio assolutamente non esaltante Per uno come Shelton noi conosciamo quanto il suo servizio può essere devastante E con innumerevoli palle break concesse Molte di più di quelle di Bautista Con O'Connell in secondo turno ci sarà sicuramente da alzare l'asticella Perché sappiamo quanto O'Connell possa essere un rompiscatole soprattutto in casa In un qualche modo l'ha portata a casa anche il buon Taylor Fritz Un Taylor Fritz che pare essere veramente un lontano parente di quello visto sul cemento nel 2022 Infatti il 3-2 con Brividino rifilato a Facundo di Azzacosta non può certo essere confortante Visto che l'argentino essendo argentino e quindi cresciuto su un'altra superficie è un terraiolo puro Lui più di Shelton sicuramente mi fa dire che è necessario alzare l'asticella Perché questa versione di Fritz può assolutamente perdere da chiunque E quindi la domanda è il prossimo giocatore fuori dalla top 40 a prendere il suo scalpo, ad avere il suo scalpo Sarà Ugo Gaston? E ragazzi il discorso che ho fatto precedentemente per Ben Shelton lo devo ripetere anche per Lorenzo Musetti Autore di una buona partita sostanzialmente solo nella prima parte del primo set contro Benjamin Bonzi Vittoria per 3-1 sì ma troppa, troppa fatica per battere un giocatore non in condizione come il francese Che gioca da un anno praticamente male tutte le partite E ad attenderlo in secondo turno c'è un giocatore francese anche lui Ma molto più pericoloso di quello appena affrontato ovvero Luca Vanache Mi aspetto ragazzi purtroppo una sofferenza incredibile dall'inizio alla fine In una partita che sarà da vincere, assolutamente da vincere però non senza fatica Senza grossi guai invece il nostro Yannick Sinner e Stefano Sizzipass Entrambi però con avversari non esattamente scontati in primo turno Questo bisogna dirlo Primo perché aveva un ex top 25 come Botk van de Zanskulp E l'altro perché aveva un lottatore, io lo seguo, a me piace come giocatore come Sisu Berks E ragazzi lo direte pure voi se avete visto la partita come ho fatto io Che è stato evidente il fatto che Sinner fosse la prima partita della sua stagione Servizio non al top, pochi vincenti e qualche errore di troppo E di fatto a certificare questo la differenza in ogni set è stata costituita solo da un break Tuttavia il tabellone che può aiutarlo a ritornare al livello col quale lo abbiamo lasciato in Coppa Davis nel 2023 Ce l'ha, poiché infatti i potenziali prossimi avversari sono più che abbordabili Infatti il prossimo turno ci sarà Jesper De Jong e poi ipoteticamente Sebastian Baez o Daniel Galan Malamente fuori Cioric, Raonic e Jarry Quest'ultimo per una grandissima prestazione di Flavio Covoli E ci è mancato tanto così che a questo gruppo di tre giocatori si aggiungesse anche Andrei Rublev Autore di una prestazione tutt'altro che eccellente contro quella che pare essere la bestia nera dei giocatori russi Ovvero Tiago Seibot-Will Di fatto il brasiliano stava per ripetere lo scherzetto fatto a Daniel Medvedev a Parigi a Roland Garros nel 2023 Ma ha rallentato la sua corsa solo nel miglio finale al tiebreak, al super tiebreak del quinto set Ed effettivamente ragazzi ci sono state tante teste di serie che hanno vinto ma hanno vinto senza convincere E a questi si uniscono anche Kord, Arune e a mio avviso sorprendentemente anche Dimitrov e Medvedev Quest'ultimo salvato dal ritiro per via di un colpo di sole di Terence Atman Tra tutti questi avanzano anche Alcaraz e Zverev E protagonisti assoluti di questo primo turno agli austriano pensano stati sicuramente gli italiani E non lo dico perché sono io italiano ma perché sono arrivate 6 vittorie su 6 giocatori presenti nel tabellone principale E quindi per ultime ma non per importanza menzioniamo anche le grandi vittorie di Giulio Zepiei Autore di una prestazione fantastica contro Laujovic E Lorenzo Onago che sempre con il brividino, oramai una costante di sonni Si è guadagnato Alcaraz al secondo round Vedremo come andrà signori, vedremo come andrà Intanto questo video è finito Noi ci vediamo alla prossima che sarà dopo il terzo turno, dopo il secondo turno Non lo so in questo momento perché tra qualche giorno partirò per un piccolo viaggio in Polonia E quindi non lo so se riuscirò a far uscire un video, comunque farò il mio meglio Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi